La grande musica degli chansonni francesi del Novecento arriva alla piccola ribalta. Domenica 20 marzo alle ore 17 nel teatro peserese di Via dell'Acquedotto, il duo jazz composto dalla voce di Sara Genghiotti e dalla fisarmonica di Giacomo Rotatori condurrà nell'atmosfera di Cooler Caffè un viaggio sulle note d'Oltralpe diretto da Maurizio Garattoni. Il duo nasce da una comune passione per la musica francese, per la chanson, e quindi siamo partiti dalla Piaf di cui riproponiamo dei brani celebrissimi fino ad arrivare a compositori suoi contemporanei come Gainsbourg, Trenet, Brassen, Asnavour e molti altri. Il duo nasce come un duo jazz perché sia io che Sara Genghi siamo due musicisti improvvisatori, però alcune cose le abbiamo lasciate intatte come gli originali. Gli abbiamo dato solo un'impronta personale e abbiamo scelto di lasciare in pace tra virgolette i brani della Piaf perché ci sembravano così dei capolavori già per come erano concepiti. C'è una bella sinergia tra la voce e la fisarmonica e è un duo che dialoga su un piano improvvisativo molto importante. L'idea di Cooler Caffè nasce per caso ascoltando la musica per strada e quindi è nato subito il desiderio di raccontare delle storie. Io che in passato ho frequentato la musica, la scrittura, il canto e oggi il teatro di parola ho pensato che si potesse mescolare il tutto e lo spettacolo è nato praticamente da solo. Pian piano andando a curiosare, andando a scavare nelle vite e nelle storie di vite dei personaggi e ovviamente anche della musica. Il più si approfondiva e il più lo spettacolo si realizzava. La vita vera di uomini e di donne che poi si intrecciava con la musica che era quella dell'anima e quella musica di cui non puoi fare a meno. Quindi io consiglio lo spettacolo a tutti perché è uno stimolo ad approfondire la storia della musica francese e soprattutto approfondire anche le vite di chi l'ho vissuta così, con passione totale e genuina. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!